per comprare tutto il progetto esclusivo del pasticciotto di Angelo. Angelo, hai visto, te l'avevo detto, anche in Arabia Saudita, sono venuti proprio per comprare. E quindi dovremmo anche avere noi, dall'Arabia, anche il pasticciotto di Angelo. Vuole comprare lei tutto il progetto in esclusiva, in esclusiva per l'Arabia, per l'Arabia Saudita, tutto. Tutto, credo che, Angelo, qui ci sono gli 80 milioni di euro, spiccioli. Scusi, una domanda soltanto, ma il suo ceicco, le aveva detto di andare a campi o di andare per i campi? No, lui ha detto vai a campi, però mi sa che ti troverai veramente tra i pericami. Ho capito, ho capito. Bene, allora, Angelo, concluso l'affare, penso. Già a questo punto potete andare insieme. Stasera devo tornare con i vassoi di pasticciotto. 80 milioni di euro. Ok, buonasera. Grazie, lei vada pure per i campi e tutto il comitato sul palco. Tutto il comitato sul palco.